Bari, capitale digitale non solo da un punto di vista di imprese che hanno investito, ma anche di capitale umano che in questo momento si sta concentrando su Bari, che vede la valorizzazione di questo capitale umano attraverso multinazionali, ma anche attraverso start-up, attraverso tutte le imprese del nostro distretto dell'informatica. Creare questi eventi di diffusione non solo servono per generare comunità e prospettiva rispetto ai nuovi sviluppi dell'innovazione, ma servono anche per rafforzare l'idea che il digitale e internet è il più grande creatore dei posti di lavoro degli ultimi anni.